e buongiorno a tutti sono molto contenta di questa giornata una giornata importante nella quale inauguriamo ufficialmente l'aula presso l'istituto ruffini di imperia nel quale l'istituto di cultura italo tedesco negli ultimi anni ha organizzato i corsi e negli ultimi due anni anche gli esami per le certificazioni linguistiche per tutto il ponente ligure è un momento in cui andiamo a rafforzare i legami tra i nostri due paesi l'italia e la germania legami già in essere grazie al al gemellaggio che la città di imperia con la città del lago di costanza di friedrichshafen un legame importante che già due anni fa in nella fase più acuta della pandemia i nostri due presidenti frank walter stein maya e di sergio mattarella sono andati a rafforzare ulteriormente andando a sottolineare quanto la solidarietà tra due paesi fosse importante per superare un momento di crisi ma fosse altrettanto importante al fine di creare un'europa unita un'europa solidale e un'europa orientata al futuro